Uno spiraglio per uscire dalla crisi si vede, ma la realtà delle famiglie italiane è ancora molto difficile da affrontare. Secondo l'analisi di ConfCommercio su consumi, spese obbligate e PIL, i problemi sono ancora molti. I dati del 2013 rimangono negativi, meno 1,7% per quanto riguarda il PIL, anche se per l'ultimo trimestre dell'anno si prevede un piccolo rialzo dello 0,2%. Il problema principale delle famiglie è quello delle spese obbligate, affitto, carburanti e bollette varie. Per pagare il resto rimane davvero poco. Le spese obbligate valgono oggi il 40% del totale, il 10% in più rispetto a 20 anni fa. Le spese per i propri interessi sono invece diminuite nello stesso periodo del 12%. In vista dell'anno prossimo il governo ha adottato delle misure che potranno portare buoni frutti, ha detto il presidente di ConfCommercio, Carlo Sangalli, ma non basta. Per agganciare la ripresa e renderla più robusta in termini di nuova crescita e di nuova occupazione occorre rilanciare la domanda interna che per investimenti e consumi vale l'80% del PIL. E allora la prima cosa che Adoras deve fare il governo è quello di cancellare definitivamente un ulteriore aumento della aliquota IVA che sarebbe esiziale per imprese e famiglie già durissimamente provate da una crisi senza precedente. A pesare sulla vita delle persone, spiega il direttore dell'ufficio studi di ConfCommercio Mariano Bella, sono soprattutto il livello dei redditi uguale a quello del 1986 e i paletti di un mercato ancora troppo monopolizzato. Noi ci dobbiamo stupire se i negozi chiudono, se la disoccupazione cresce perché chiaramente i beni commercializzabili perdono e perdono continuamente. La crisi dei consumi, il crollo dei consumi dovrebbe essere finito. Questo non automaticamente vuol dire che i consumi ritorneranno a crescere.